Nel 2019 sarà l'Italia ad ospitare la capitale della cultura europea, una grande opportunità di rinascita culturale e rilancio economico per la città che sarà selezionata, che avrà forti ricadute anche sul turismo. A concorrere per il titolo sono rimaste in sei Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Sisi, Ravenna e Siena. Non certo metropoli, ma centri di media grandezza che per la loro candidatura hanno puntato molto sull'appoggio delle comunità locali. A raccontare la loro corsa verso il 2019, questa mattina abitiò anche i rappresentanti di due finaliste, Matera e Siena. Per la città del Palio, che sta vivendo un periodo di grande difficoltà, la candidatura rappresenta una speranza concreta per tornare a crescere, cambiando anche il modello del turismo mordi e fuggi, che va per la maggiore. In questo momento Siena, come sappiamo, è soprattutto destinazione di un turismo di passaggio, che molto spesso ha tempi di permanenza brevissimi e quindi su una città delle dimensioni di Siena impone spesso costi fisici e anche sociali non banali. Quindi noi vogliamo lavorare soprattutto su un nuovo modello di turismo che anche attraverso un uso molto innovativo delle nuove tecnologie abbia una capacità di essere più lento, più riflessivo, più attento alle vere specificità della città. Come si fa a rivoluzionare l'esperienza turistica a Siena andando oltre l'immagine da cartolina? Dobbiamo tornare a lavorare molto sull'innovazione culturale. Il turismo è molto legato anche proprio alla nostra capacità di leggere i luoghi, di farli parlare. Da questo punto di vista naturalmente le nuove tecnologie ci offrono opportunità straordinarie, ma ovviamente io ripongo in molta aspettativa anche nel lavoro tra gli artisti e la comunità. Far tornare a lavorare la comunità senese come gli artisti, come ha fatto per secoli e come ha di fatto reso possibile la creazione di una delle città europee più aperte all'innovazione. Anche Matera punta sull'attrarre artisti e creativi per diventare un centro di produzione di cultura e sul coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso gli strumenti del web 2.0. Abbiamo lavorato proprio per il giorno della candidatura di portare tutti i cittadini dentro la sala in cui eravamo interrogati. Quindi abbiamo fatto una diretta online con un'attività che veniva svolta a Matera e questa diretta online è andata dentro la sala dove noi eravamo interrogati. Contemporaneamente abbiamo creato un hashtag apposta che si chiama Porta Matera del 2019 che è stato l'hashtag più twittato per tre ore in Italia grazie a un lavoro di Twitterstorm che abbiamo programmato e che è stato anche proprio presentato all'Europa per far capire che queste cose si possono fare nei giorni in cui si sarà capitale tutti i giorni insieme a tutte le comunità coinvolte. Grazie.